Volevo fare un esercizio con te, aspetta torniamo indietro, qua, e vedere se hai capito questo concetto e vedere anche come usi le domande di chiusura. Facciamo finta che stiamo facendo una trattativa, arriviamo a un certo punto, quindi la trattativa è già avanzata. Senti Dario, guarda, tutto perfetto, tutto perfetto, però costi troppo. Costo troppo. Grande! Bravissimo! Non me l'aspettavo, mi ha fatto paura, mi ha fatto paura. Ti è rimasto impresso. La uso da lunedì. Da lunedì usatela, ok. Usano un'altra adesso, vediamo io cosa ti posso dire. Ah, senti Dario, guarda, ho capito tutto, tutto bene, però sì, dovrò pensarci un pochino. Due settimane, devo pensarci. Due settimane. Ma Giuliano, dimmi una cosa. Ecco, attenzione, sempre contatto visivo, ok? Ricordatevi anche questo passaggio. Sempre contatto visivo. Facciamo un applauso a Dario, ragazzi. Guardate che non è facile stare qua, eh? Non è facile stare qua, perché guarda anche il mio non verbale. Guarda Dario, tutto bene, però devo pensare, almeno un paio di settimane. Chiaro. Ma allora, intanto il fatto che ci vuoi pensare due settimane, comunque mi sta dicendo che sei comunque interessato alla nostra offerta e che ci stai pensando seriamente. Quindi a questo punto ti direi, se sei d'accordo, fissiamo un altro incontro, quindi fra due settimane. Oggi ne abbiamo due, possiamo fare giorno 16 di giugno. Ti sta bene? Sì, potrebbe essere, va bene. Perfetto, preferisci mattina, pomeriggio? Dammi un orario. Ma è meglio il pomeriggio. Perfetto, fisso un calendario in agenda e ti posso trovare. Ok, perfetto, anche così va bene. Facciamo un altro esercizio, ok? Io ti dico sempre che ci devo pensare, tu adesso usa la tecnica della domanda di chiusura, te la ricordi? Guarda Dario, va tutto bene, la tua offerta mi va bene, però... Sai, noi come azienda, prima di decidere, di solito guardiamo almeno un'altra proposta. Quindi in settimana me ne deve arrivare un'altra e quindi poi ti saprò dire. Perfetto. Allora, noi potremmo fare così, Giuliano, se sei d'accordo. Noi fra una settimana ci risentiamo, tu raccogli la tua offerta, le tue offerte, come giusto che sia, ci risentiamo, guardiamo insieme l'offerta, vediamo se è la stessa cosa che ti stiamo proponendo noi come azienda, se tutti i punti importanti per te ci sono, dopodiché le mettiamo sul piatto, a B, e decidiamo. Se ovviamente la bilancia pende dalla nostra parte, chiudiamo? Procediamo? No, direi di sì, anzi ti ringrazio che mi dai la disponibilità di confrontare le offerte del tuo tempo, grazie. Ci mancherebbe, è giusto, è importante perché è la prima volta che ci confrontiamo, immagino che hai altri lavorando nel settore da diciamo 30 anni, avrai sicuramente il tuo portafoglio clienti, avrai i tuoi agganci, quindi è giusto che guardi anche le tue offerte, però insomma dacci anche il beneficio del dubbio, quindi provaci. No, mi piace, mi piace, soprattutto perché vedo che sei sincero, sorridi, hai gli occhietti che sorridono, e quindi non mi stai mentendo. Bravissimo, vai! Grazie. 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 Grazie.